Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo fare un annuncio nel quale dico che devo a solito svento e scambiare queste ex per altre ex di altri set che non siano di destini futuri esploratore delle tenebre che servirebbero o anche in inglese delle altre ho anche un Zekrom e un Reshiram Ultra da scambiare poi ho 3 Regigigas X, non so che farme 3 Reshiram X, 1 promo, 2 trovati in bustina però uno è leggermente piegato qui adesso vi faccio vedere non si vede molto però è sempre piegato allora la piegatura è qua non so se si riesce a vedere perché è leggerissima comunque vabbè comunque intanto c'è già l'altro in perfette condizioni dunque non preoccupatevi poi un Kyurem X Full Art e un Kyurem X Promo e infine un Shaming X un Zekrom X e 2 Dark Cry X cioè non ho trovato cioè Ray Call l'ho trovato in inglese vabbè non ho trovato nessun'altra X lì fuori di Dark Cry in italiano cioè ce ne ho 3 questi due adesso vi faccio vedere l'altro che ho del set eccolo qua cioè è una maledizione 3 Dark Cry X assolutamente chi lo vuole me lo deve dire perché ormai se ne trovo un altro lo strappo no dai grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo da Shaming Tecrom